Che amici da Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Cinepillole. Io sono Saluto Andrea Trebruzzi e questa volta la video recensione è dedicata a Godzilla 2, King of the Monsters. Dunque, Godzilla, dicevamo. Godzilla che se si guarda un po', diciamo, anche solo la pagina su Wikipedia, è stata poi una bellissima dichiarazione del regista Jun Fukuda che dice che in realtà Godzilla, questo gigantesco essere nato originariamente nella tecnologia atomica, non avrebbe emozioni perché sarebbe lui stesso un'emozione, questa è stata un po', diciamo, la chiave metaforica, quella che è un po' sempre contraddistinto il bestione. In realtà Godzilla di emozione è incanato di una, è senso di colpa, settile indetta, rabbia, paura. Una paura che, in qualche modo, verso la natura, che può essere violenta, che è scolpita dagli DNA dei giapponesi praticamente da sempre, da prima delle bombe, degli ordini che sono stati scagliati sulle città di Hiroshi e Nagasaki, prima dell'incidente e della Daiko Fukuyukumaru del 54, è in generale una terrore, quelle cose, diciamo, hanno concorso, diciamo, da diventare questa paura verso la natura, però, la natura violenta, però è una qualcosa che c'era già prima, perché in generale il Giappone è una terra che è da sempre afflitta da alluvioni, tifoni, terremoti, parte della filosofia giapponese, il loro taglio architettonico, il loro gusto per il design, è comunque legato, in qualche modo, a, non so come dire, a questa, a questa particolare precarietà, in qualche modo. E quindi, insomma, Godzilla arriva proprio da questa, da questo tipo di sentire. Una tensione, questa di Godzilla, che negli ultimi anni è stata portata sullo schermo da diversi autori, ci sono due serie, due o tre, se non sbaglio, lungometraggi animati su Netflix, anche se, forse, il Godzilla più interessante, è stato portato sullo schermo da Iriaki Anno, Shin Godzilla, che in realtà indaga un po' il fenomeno, l'invasione, l'arrivo del mostro, dal punto di vista degli esseri umani, principalmente, quindi, in generale, dal modo in cui la macchina burocratica si mette un modo. Tra l'altro, Iriaki Anno, in realtà, semplicemente già con Evangelion aveva un po' trattato questo mostro, questo tipo di attacco che viene dal mare, che viene dall'ignoto, così, in fondo, gli angeli non sono che dei kaiju, tutto sommato, che arrivano e vanno fermati e divastano, fanno tutto quanto, quindi, insomma. L'altro autore che ha portato, comunque, il cineasta che ha portato Godzilla sullo schermo è Gallery Tewars, nel 1914, scusate, con, appunto, il Godzilla, nato da un'operazione coprodotta dalla Warner Brothers, dalla Toh Company, da Legendary Pixels, nata anche per fondare una sorta di mostroverso. Quindi, un mostroverso che è stato poi seguito, Godzilla, da Kong School Island e che dovrebbe, diciamo, evolvere in Godzilla vs. Kong, che uscirà, credo, nel 2020, attualmente già in fase di produzione. Comunque, Godzilla 2, finalmente ci sono arrivato, stavolta non c'è più Gareth Tewars, alla macchina da presa, c'è Michael Dougherty, che ha pure messo mano alla sceneggiatura, assieme a Zach Shields e Max Borenstein, e ha fatto un film che è molto diverso, sì, da quello di Arno, ma anche da quello di Edwards, nel senso che, in quel caso, andava molto, nel primo Godzilla, era molto giocato sulla tensione, andava un po' nella stessa direzione dello scuolo di Spielberg, nella misura in cui del mostro non si vedeva granché, compariva in scena molto tardi, veniva anticipato un po' da delle parti di tensione, insomma, non era, era protagonista, pur stando contestualmente dietro le quinte. Qui, invece, le cose si sono fatte decisamente più esplicite. La trama, diciamo così, la trama degli umani coinvolti in questa storia, rimanda un po' al secondo Jurassic Park, c'è un po' del tale ecologista Jurassic World, c'è la classica tematica familiare un po' alla Spielberg, nel senso che c'è una coppia divorziata, lui interpretato da Kyle Chandler, lei è vera farmiga, e questa coppia ha una figlia, che è la piccola Madison, che invece è interpretata da Millie Bobby Brown, la prima volta sullo schermo. La storia un po' inizia quando lei, il personaggio della paleontologa per farmiga, viene rapita da un'associazione in parola militare, che è interessata all'involcimento sul progetto Orca, quindi un progetto, uno strumento in grado di comunicare con i Kaiju, con questi mossi, con questi titani che sono comparse nel primo Godzilla, e lui, Mark, però è un po' per caso, diciamo, c'era da fare per cercare di recuperare, di salvare moglie e figlia, ex moglie e figlia. Il cast in generale funziona bene, sono tutti bravi, tra l'altro ci sono anche Chairs Dance, lo ricorderete per Game of Thrones, anche l'Art of the Hero, e altri film in generale, un attore eccezionale, Ken Watanabe, ormai un po' un prezzemolino, c'era anche in Pokémon, Detective Pikachu, e però, insomma, il personaggio che ha l'editori line forse più interessante, l'evoluzione, è quello di Millie Bobby Brownlee, tra l'altro è sempre molto bravo. Detto questo, il film forse avrebbe pure funzionato meglio senza la parte umana, nel senso che, sì, ok, gli editori sono bravi, non è scritta malaccia, ma è molto molto semplice, quasi banale, non è che uno strumento in fondo al servizio di quelli che sono un po' i veri protagonisti del film, cioè i Kaiju, che in questo caso vengono chiamati i Titani, e l'azione. Il Godzilla di questo secondo episodio in realtà non è tanto una metafora quanto una vera e propria divinità, una divinità che è pienata a difendere il proprio trono da altri Kaiju che sono comparsi, ci sono delle superstar del lato classici che sono Rodan, un Tenanodonte, un, diciamo, dinosauro volante, Motra che è la fornata gigante, e poi, diciamo, l'arcennico di Godzilla che è il bonitissimo King Ghidorah, che è questo mostro dinosauro, sauro a tre teste, una specie di hitra, diciamo così, infatti poi a riferimento a mitologi, ci sono molto insistiti in questo film. Dunque, dicevo, dal film di Gareth yours, qui il ritmo del racconto è molto meno sospeso, non c'è tanto spinto sulla tensione, ma anzi, è tutto un rimbombare di bestioni che combattono, si sbattono dappertutto, e che sono veramente, veramente spettacolari. Sono spettacolari per il design, nell'elettropricevolmente tradizionale, i Kaiju da vedere sono bellissimi, ce ne sono in abbondanza, sono eccezionali quando combattono il movimento, combattono in molti scenari, è veramente un film gigante, ipertrofico e spettacolare in questo senso. La computer grafica, tra l'altro, è decisamente sopra la media, al di là di questione sidistica, lo stile che mi ha piaciuto moltissimo, e anche la fotografia, che a volte gioca un po' con l'oscurità, per nascondere magari qualche magagna, però insomma, in generale funziona molto bene, anche la mano del regista, che è perfetto, perché in alcune scene mette i giganti che combattono sulle sfonde, gli umani, in primo piano, e si vede veramente la differenza tra quelle che sono formiche e, diciamo, gli esseri ipertrofici che si danno di santa ragione. Poi, vabbè, ripeto, la storia non è niente di eccezionale, è quasi prescindibile in un film del genere, però, secondo me, si fa perdonare, un film che si fa perdonare perché visivamente è pazzesco, è appagante, massiccio, è generoso come film sul piano dei mostri e, insomma, boh, secondo me, se vi piacciono operazioni di questo genere, se vi piacciono i casi, questo vale decisamente la pena, ecco. Tra l'altro, il film è uscito ieri, credo, nelle sale, su Outcast trovate già la mia recensione scritta, e direi che è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS